Buongiorno amici, ho messo un nuovo post ed è da tre mesi che non postavo niente, quindi spaccatelo di like e dovete riattivare Instagram Attenzione, abbiamo un amico a Los Angeles Stiamo facendo serata e... Cazzo di niente! No, però siamo in situazioni molto simpatiche, siamo delle brave persone, soprattutto robate Io sono una bravissima persona, ci mancherebbe altro Un saluto! Ciao Italia! Ciao! 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 Ciao!